i reti attuativi della cosiddetta riforma Maria, quindi della riforma della pubblica amministrazione che è stata avviata con la legge 124 del 2015, varata dall'allora ministro Maria. Quindi che cosa è successo fondamentalmente con questo nuovo testo degli articoli da 14 a 14 quinquest? Intanto una cosa importante, la conferenza decisoria, noi oggi tratteremo soltanto quella, quindi non tratteremo la conferenza che deve concludersi con un'autorizzazione o un diniego, non tratteremo invece la conferenza istruttoria, la conferenza preliminare, che sono altre tipologie di conferenze, qui tratteremo soltanto la conferenza decisoria, questa diventa obbligatoria quando occorre acquisire almeno due pareri o altri atti di assenso da parte di diverse amministrazioni. Quindi questo specifica l'articolo 14 del nuovo testo della legge 241, mentre prima la conferenza dei servizi sia nella 241 sia soprattutto in alcune leggi di settore, tra cui anche leggi che riguardano il SUAP e il SUE, basti pensare al DPR 160 del 2010, per quanto riguarda lo sportello unico, il DPR 59 del 2013 per quanto riguarda l'AUA, lo stesso testo unico dell'edilizia, in tutte queste norme speciali la conferenza di servizi era un modulo procedimentale che veniva innestato nel procedimento autorizzatorio quando avveniva qualcosa di patologico nell'istruttoria, quindi quando il responsabile del procedimento non riceveva i pareri nei tempi prescritti, allora era prevista la convocazione della conferenza. Quindi oggi invece quando scatta la causa di obbligatorietà della convocazione, la conferenza si indice, si convoca e basta, non ci sono valutazioni da fare. Questo naturalmente determina un'accelerazione dei termini del procedimento. Un altro aspetto importante, l'altra novità fondamentale, è l'introduzione del principio di proporzionalità. Cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che mentre prima, chi di voi lavora da un po' di anni nella pubblica amministrazione lo sa bene, fino al 2016 per ogni tipo di conferenza, anche per quelle più semplici, per gli istruttori più semplici, occorreva comunque incontrarsi fisicamente presso la sede indicata dal responsabile del procedimento, quindi era una conferenza necessariamente fisica e contestuale, oggi invece si stabilisce un criterio appunto di differenziazione e di proporzionalità. Nei casi più semplici, quindi nella generalità dei casi, la conferenza si indice, ma non si convoca, si chiama conferenza semplificata, che poi dopo vedremo, è disciplinata dettagliatamente dall'articolo 14 bis. Solo in alcuni casi, quindi questa è la regola, è la conferenza semplificata, l'eccezione invece è la conferenza contestuale o in forma sincrona, che poi invece è disciplinata dall'articolo 14 ter, che poi vedremo più avanti. E quindi, come dicevamo, il modulo ordinario della conferenza è quello semplificato, non ci sono più riunioni, quindi non è una conferenza che prevede l'obbligo di incontrarsi fisicamente in un posto, ma c'è soltanto la trasmissione dei documenti per via telematica, poi come lo vedremo tra un attimo. Allora, in entrambe le conferenze di servizi è previsto un termine massimo di rilascio del parere di 45 giorni, che salgono a 90 se sono coinvolti gli enti preposti alla tutela degli interessi di rango costituzionale. Quali sono questi interessi di rango costituzionale? Sono quelli ben noti, la tutela del patrimonio demo-etno-antropologico, la sicurezza, insomma la tutela igienico-sanitaria e quant'altro. Sono quindi fondamentalmente enti quali sovrintendenze, le ASL e altri soggetti preposti alla tutela di questi tipi di interessi. Però, quello che è importante, e che trovate subito dopo nel corpo della slide, è che l'essere un ente preposto alla tutela di interessi costituzionali determina soltanto un raddoppio del termine concesso per l'espressione del parere, ma non, come era fino al 2016, fondamentalmente un potere di veto, cioè il silenzio e assenso opera sempre anche se si tratta degli enti sensibili. Se decorrono i 90 giorni, comunque si considera acquisito il silenzio e assenso, a meno che, e questo è l'aspetto importante che stabilisce il COBA 4 dell'articolo 14 bis, a meno che la necessità di concludere quell'endo procedimento con il rilascio di un parere espresso non derivi direttamente da una normativa comunitaria, a meno che non vi sia un regolamento o una direttiva comunitaria che preveda che quell'endo procedimento si chiuda con l'espressione di un parere, quindi non con il silenzio e assenso. I casi, alcuni sono, come dire, pacifici, sono stati anche pubblicati nelle fac uscite già nel 2016 da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi pensiamo nel campo ambientale, alla via, alla valutazione dell'impatto ambientale, o sia quella statale che regionale. Pensiamo all'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, quelle previste dall'articolo 269 del Codice dell'Ambiente. Fuori dal campo ambientale pensiamo ad esempio agli stabilimenti dove si trattano sostanze alimentari per i quali non è prevista la semplice notifica, che poi sarebbe la scia in campo alimentare, ma è previsto il riconoscimento. In quel caso c'è un regolamento comunitario, chi di voi tratta questa materia lo saprà già, c'è un regolamento dell'853 del 2004 che prevede che per alcune categorie di stabilimenti più sensibili dal punto di vista del rischio igienico-sanitario occorre provvedere con un riconoscimento. Quindi in quel caso non è possibile chiudere la conferenza in mancanza di questi pareti. Tranne queste eccezioni, la regola appunto è che dei corsi 90 giorni, anche per gli enti sensibili, il responsabile del procedimento non può, ma deve andare avanti e chiudere con silenzio e assenso. Quindi come dicevamo la conferenza simultanea, quella con la riunione, si sarà soltanto quando ciò è strettamente necessario. Allora vediamo come funziona quindi la conferenza di servizi semplificata, qual è la modalità di svolgimento. Allora intanto, come dicevamo prima, la conferenza si dematerializza, quindi non è previsto più un flusso cartaceo di documentazione. L'articolo 14 bis ci dice che quando non è disponibile una piattaforma telematica, quale può essere quella della regione, quella di imprese in un giorno e quant'altro, o la firma digitale, è possibile inviare in allegato a un messaggio di posta anche ordinaria, la scansione dell'istanza protocollata e la relativa documentazione, oppure si può utilizzare la PEC. Questo è importante perché a volte tendiamo a pensare che soltanto la PEC sia uno strumento valido per l'invio di documentazione formale, quale può essere anche l'atto di indizione di una conferenza di servizi. In effetti non è così, purché la posta elettronica ordinaria sia quella istituzionale, quindi chiocciola, che ne so, comune.torino.it, è assolutamente valido anche la trasmissione tramite posta ordinaria. Naturalmente, come tutti sapete, come ci dice l'esperienza di tutti i giorni, la posta ordinaria sconta fondamentalmente due criticità rispetto alla PEC. Una è legata alla capienza, solitamente la PEC ha una, come dire, in termini di megabyte, di allegati a una capienza superiore alla posta ordinaria. L'altra è che naturalmente, a differenza della PEC, quando inviamo un messaggio di posta elettronica ordinaria, non ci arriva, a meno che noi non l'abbiamo impostata, e dall'altra parte qualcuno non si prende la briga di cliccare sulla ricezione, non ci arriva la conferma di ricezione, che nella PEC invece ci torna subito in automatico, e quella vale come conferma di avvenuta ricezione. La vecchia cartolina, l'avviso di ricevimento era la vecchia cartolina della raccomandata postale, se ricordate. Quindi quella fa piena, la PEC fa piena prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'altro ente. Ma questo, ripeto, vale soltanto nei casi in cui non ci avvaliamo di piattaforme informatiche. Un altro aspetto interessante, che è preso in considerazione dell'articolo 14 bis, per quanto riguarda le modalità di invio della documentazione, è utile soprattutto quando abbiamo grandi progetti, che magari neanche con la PEC riusciamo a gestire, perché immaginate un grande progetto edilizio, un centro commerciale, un distributore carburante, dove abbiamo tavole e file digitali molto pesanti, c'è questa possibilità che in gergo tecnico si chiama FTP, cioè File Transfer Protocol. Fondamentalmente che cos'è? Io lascio il progetto depositato sul mio server comunale e in un'area, diciamo così, protetta, tramite, protetta dal caricamento di credenziali. Quindi non è un accesso pubblico indiscriminato, ma è una pagina web, è un indirizzo IP accessibile soltanto mettendo le credenziali, quindi user ID e password. Io in questo caso che faccio? Nell'avviso di indizione della conferenza indicherò soltanto il link, quindi quello che in gergo viene chiamato l'URL, quindi il link a cui cliccare, e poi darò le credenziali. Quindi in questo modo il vantaggio qual è? che posso gestire una conferenza anche laddove vi siano progetti di grandi dimensioni, perché fondamentalmente il progetto con tutto il suo carico di megabyte non viaggia, rimane fermo sul mio server, sono gli altri uffici, gli altri enti che possono accedere in maniera protetta e riservata con queste credenziali. Quindi questa è una cosa che opportunamente è stata presa in considerazione dall'articolo 14bis. Qual è la tempistica della conferenza di servizi semplificata? Allora, questo è naturalmente il passaggio più critico, se volete più delicato, e cioè nei cinque giorni lavorativi, quindi fatti salvi per fortuna il sabato, la domenica e i festivi, entro i successivi cinque giorni lavorativi dalla ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento la deve indire. La conferenza è indetta. Da questo punto di vista, chiariamo un concetto che spesso crea confusione, la differenza tra indizione e convocazione della conferenza. Quando avevamo un modulo unico di conferenza di cui abbiamo parlato prima, naturalmente si poteva anche confondere la indizione e convocazione, perché si descriveva sempre, si indice e convoca la conferenza. Oggi non è più così, oggi la conferenza semplificata viene indetta, non va convocata, soltanto in determinate casistiche, che poi vedremo tra poco, c'è la necessità, poi viene la convocazione. Ma la conferenza viene indetta, quindi l'indizione è l'atto di costituzione della conferenza stessa. Vi ricordo che la conferenza non è un organo della pubblica amministrazione, quindi non è un soggetto che decide per tutti, la conferenza è un modulo procedimentale, come più volte ha specificato anche la giurisprudenza. Quindi manteniamo intatte le nostre competenze, i nostri poteri, istruttori e decisori, semplicemente lavoriamo all'interno di un modulo procedimentale che si chiama conferenza di servizi. Quindi l'indizione va fatta entro cinque giorni lavorativi. Come ha enfatizzato il governo nella relazione illustrativa del decreto legislativo 127, vengono quindi eliminati i tempi morti di attesa, i 30 giorni prima di indire la conferenza, che prima erano necessari, come erano previsti dalla legge 241, se non mi arrivavano i pareri entro 30 giorni, il responsabile del parere doveva convocare la conferenza di servizi. Oggi invece la conferenza, come abbiamo visto, quando vi sono atti di assenso da parte di due o più amministrazioni, deve essere necessariamente indetta e quindi risparmiamo questi primi 30 giorni. L'altro aspetto importante, dei corsi famosi 45 o 90 giorni di cui abbiamo parlato prima, e vi ricordo che questo termine di 45 o 90 giorni decorre dalla ricezione del nostro atto di indizione a cui abbiamo allegato la documentazione necessaria, quindi entro lo scadere di 45 o 90 giorni e dobbiamo porre in essere la determinazione motivata di conclusione, naturalmente positiva se questo è possibile, altrimenti negativa. La determinazione positiva sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati, tutti quelli previsti nella conferenza di servizi. Questo è naturalmente il caso più lineare, più semplice. La determinazione invece può essere anche a contenuto negativo, ahimè, questo può capitare, quindi che produce l'effetto del rigetto della domanda, anche questo va fatto nei 5 giorni lavorativi successivi, quando sono stati acquisiti atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritiene superabili. Se invece li ritiene superabili, c'è un'altra fase procedimentale che vedremo tra un attimo. Quindi se vi sono atti di dissenso che il responsabile del procedimento non ritiene superabili, si fa una determinazione motivata di conclusione negativa. Attenzione però, in questo caso, in questo caso, la determinazione motivata di conclusione negativa non deve contenere la famosa clausola a verso il presente atto è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Si avrete la classica clausola che si mette negli atti e soprattutto a contenuto negativo, ma vale invece, come ci ricorda l'articolo 14 bis, vale come comunicazione di motivi ostativi. Quindi, questa determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza vale come comunicazione di motivi ostativi. perché un principio fondamentale, un principio cardine della 241 che viene naturalmente ripetuto e avvalorato da questa nuova procedura, da questa nuova conferenza di servizi, è il principio del giusto procedimento. Il procedimento è giusto nel momento e quindi non a rischio di, o meglio, è sempre a rischio di impugnazione, ma non lo sarà per questo motivo. Il procedimento si considera giusto nel momento in cui abbiamo consentito al privato di intervenire, di dire la sua nel procedimento almeno una volta. Naturalmente qua siamo in conferenza di servizi, ma come abbiamo visto è una conferenza di servizi in forma semplificata, quindi non c'è stata una vera interlocuzione tra i soggetti, quindi tra la pubblica amministrazione da un lato, tra di loro e il privato dall'altro. Quindi dobbiamo dare almeno una volta al privato la possibilità di intervenire e lo strumento principale è proprio la comunicazione di motivi ostativi di cui parleremo in un prossimo webinar più diffusamente perché anche questa è stata modificata dai decreti di semplificazione recenti, quindi ai sensi dell'articolo 10bis della 241 del 90. Importante, che cosa dice la comunicazione dei motivi ostativi? Ci dice che appunto sussistono motivi ostativi all'accoglimento della domanda e si dà un termine di 10 giorni che prima era interruttivo, adesso invece con la riforma recente è sospensivo, quindi i termini del procedimento sono sospesi, nei 10 giorni l'interessato può presentare memorie eventualmente corredate da documentazione che poi gli uffici sono tenuti a valutare. Buona norma è, la norma non lo dice ma come dire è un principio di buon senso prima ancora che di buona amministrazione, inviare la comunicazione di motivi ostativi non soltanto a quegli enti, a quegli uffici che avevano espresso parere negativo ma un po' a tutti proprio per consentire a tutti in maniera contestuale in maniera sinottica di avere contezza delle criticità e delle osservazioni presentate dall'interessato. Ad ogni modo questi sono i due casi limite, quindi da un lato nel primo caso abbiamo visto tutti i pareri favorevoli espressi o per silenzio assenso per conclusione determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qui invece abbiamo uno o più pareri che il responsabile ritiene non superabili e quindi in questo caso si fa questa determinazione di conclusione negativa che vale come comunicazione di motivi ostativi. Quando sono acquisiti invece perché capita naturalmente un'ampia zona grigia può capitare il caso vi sarà sicuramente successo nella pratica quotidiana abbiamo atti di assenso quindi pareri favorevoli che però contengono delle prescrizioni come dire che sembrano impattare proprio sulla sostanza del progetto oppure all'opposto abbiamo atti di dissenso quindi pareri negativi che tuttavia sono cosiddetti pareri negativi collaborativi cioè sono già indicate quali sono le condizioni le prescrizioni rispettate le quali l'ente l'ufficio potrebbe rilasciare un parere favorevole in questi casi dice la norma con apprezzabile secondo me praticità non si diciamo così il via il via di file tra gli uffici in maniera semplificata quindi questo interscambio telematico rischierebbe di non avere fine quindi l'unica cosa da fare per poter chiudere la conferenza e trovare una quadra tra tutti gli uffici è quella di convocare la conferenza di servizi in forma contestuale vi ricordo da questo punto di vista questo non l'abbiamo detto per come dire per brevità ma nell'avviso di indizione quello previsto dall'articolo 14 bis deve essere indicata anche la data entro la quale eventualmente è possibile convocare è possibile convocare gli enti gli uffici in conferenza di servizi contestuali e proprio in quella data dovremo fare una nuova comunicazione dove diciamo si richiama l'atto di indizione sono stati acquisiti atti di dissenso o dissenso che indicano appunto condizioni o prescrizioni sostanziali e quindi gli enti sono convocati alla data prevista nell'atto di indizione quello che è importante è che una volta fatto ciò quindi una volta che si convoca la conferenza di servizi in forma contestuale quindi quella tradizionale intorno a un tavolo ma anche perché no soprattutto in questo periodo di pandemia la conferenza contestuale può essere gestita anche in maniera telematica come stiamo facendo oggi solo che invece di usare una piattaforma di learning si può tranquillamente utilizzare un altro sistema per la gestione di una conferenza contestuale ancorché in forma telematica dicevo dalla data della prima riunione i lavori si devono concludere entro 45 giorni e questo termine di 45 giorni è unificato vale per tutti sia per gli enti che sono preposti alla tutela degli interessi di rango costituzionale sia gli altri perché questo perché naturalmente qui tutti hanno già contezza di quello che è l'oggetto della conferenza quindi tutti gli enti sanno di che cosa stiamo parlando quindi sono già ampiamente tutti delle problematiche quindi non c'è non c'è motivo di dare questo termine differenziato alla fine del webinar vedremo che proprio su questo aspetto c'è stata un'interessante un'importante c'è stata un'importante accelerazione determinata dal dal decreto 76 2020 proprio la la gestione la procedura accelerata della conferenza semplificata lo vedremo lo vedremo tra un attimo un altro aspetto che volevo segnalarvi invece sono i requisiti di legittimità del parere negativo cioè noi abbiamo parlato di parere negativo ma il parere negativo per essere assunto come tale e quindi per essere considerato legittimamente reso deve obbedire a determinati requisiti che sono stabiliti dal comma 3 dell'articolo 14 bis e questo vale vale sempre anche anche nel caso della conferenza contestuale intanto deve essere reso nei termini questo è banale ma è bene ricordarlo quindi 45-90 giorni deve essere congramente motivato quindi non può essere apodittico riferirsi a cose che non c'entrano nulla deve essere motivato deve essere formulato quando dice una norma in termini di assenso o di dissenso cioè quante volte vi sarà capitato a me diverse per la verità di avere a che fare con dei pareri che non si capisce neanche se sono favorevoli o contrari cioè sembrano quasi scritti in maniera come dire che si possa dare qualsiasi interpretazione invece no devono essere pareri chiari bisogna dire chiaramente se si tratta di un parere favorevole o di un parere negativo laddove il parere sia negativo deve essere se possibile costruttivo cioè deve indicare le modifiche necessarie ai fini di poter pervenire poi un domani all'assenso questo laddove sia possibile naturalmente un altro aspetto importante le prescrizioni o le condizioni indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in maniera chiara e analitica quindi dobbiamo dire chiaramente quali sono le eventuali prescrizioni o condizioni necessarie inoltre altro aspetto che viene spesso disatteso queste prescrizioni devono specificare il parere deve specificare se ci siamo limitati ad applicare in maniera pedisseca non discrezionale una norma o un atto amministrativo di rango regolamentare ad esempio ovvero se ci siamo abbalsi più o meno di un certo grado di discrezionalità questo lo dobbiamo chiaramente specificare nel parere negativo e queste sono tutte ripeto requisiti di legittimità la mancanza di uno o più di questi requisiti determina o meglio determinerebbe a stretto rigore l'illegittimità del parere negativo e quindi come recita l'articolo 14b l'articolo 14b della 241 la formazione del silenzio assenso e quindi il parere favorevole incondizionato questa è una slide presa dal sito del dipartimento della funzione pubblica dove in maniera sinottica è chiara insomma è espresso più o meno tutto il il workflow diciamo la gestione dei tempi della conferenza dei servizi la potete leggere tranquillamente con calma veniamo adesso al secondo alla seconda casistica di conferenza quella che è cosiddetta eccezionale quindi abbiamo visto la conferenza semplificata è la regola la conferenza contestuale o simultanea o sincrona è invece l'eccezione quando è prevista è prevista in alcuni casi intanto è prevista come abbiamo nel caso che abbiamo appena visto quindi quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali quindi questo è il caso che abbiamo appena visto l'altro caso è quando c'è una particolare complessità della della decisione della decisione di assumere questo è l'ultimo comma dell'articolo 14 bis che è previsto il responsabile del procedimento può stabilire sin da subito che la conferenza semplificata non è idonea per le sue modalità a trovare la quadra su un progetto particolarmente complesso e delicato e quindi può abbedersi della facoltà che è una dipende una facoltà non è un obbligo di convocarla fin da subito in forma contestuale l'altro caso sono i casi di progetti sottoposti alla via regionale questo è previsto esplicitamente dell'articolo 14 4,4 della 241 nel testo riformulato nel 2017 perché l'anno dopo la nuova formulazione di questi articoli è entrato in vivore un decreto legislativo che ha riformato in maniera sostanziale il codice dell'ambiente il decreto legislativo 104 che è quello che poi ha introdotto qualcuno di voi forse l'avrà trattato qualche volta la cosiddetta procedura di PAUR quindi l'articolo che è stato introdotto l'articolo 27 bis del codice dell'ambiente quindi mai acronimo fu più indovinato perché è veramente una procedura da paura nel senso che è veramente molto complessa ad ogni modo in caso di progetto sottoposto a via regionale quindi a PAUR è scontato che lo specifica la legge che la conferenza debba essere necessariamente gestita in forma contestuale ancora quando questo lo prevede l'articolo 14 non l'abbiamo trattato per brevità il privato presenta anche un semplice studio di fattibilità per verificare quali sono le condizioni per poi poter presentare la propria domanda di autorizzazione la conferenza preliminare si chiude indicando quali sono appunto i vincoli di carattere paesaggistico urbanistico ambientale e quello che sia sulla base delle prescrizioni stabilite dalla conferenza preliminare l'interessato presenta un progetto definitivo ed è previsto proprio obbligatoriamente che la conferenza decisoria dopo quella preliminare si debba tenere in forma necessariamente contestuale infine lo può chiedere nella fase di nella fase di diciamo così di concessa di 15 giorni concessa per la richiesta di eventuali integrazioni documentali un ente uno degli enti invitati in conferenza ma può essere anche lo stesso interessato può chiedere al responsabile del procedimento di di convocare la conferenza in forma contestuale ravvisando una particolare complessità della tematica trattata la conferenza contestuale come sapete è incentrata sulla figura del rappresentante unico quindi ciascun non soltanto ciascun ente ma ciascun livello di governo è rappresentato da un unico soggetto che deve esprimere è abilitato a esprimere in maniera unipo sento un ritorno allora che deve esprimere in maniera dicevo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza chi nomina il rappresentante unico se si tratta di amministrazioni centrali dello Stato lo nomina il Presidente del Consiglio se si tratta di amministrazioni periferiche quali ad esempio il comando provinciale di vigili del fuoco o la sovrintendenza che ricordiamoci è una struttura recentrata del Mid-Act e il Prefetto le altre amministrazioni possono comunque intervenire in funzione di supporto poi ogni regione naturalmente si è data delle regole su come nominare il rappresentante unico regionale quello che è importante è che naturalmente ciascun ente locale ciascuna regione si dia le regole interne per assicurare il coordinamento degli uffici e degli enti coinvolti quindi chiariamo rappresentante unico vuol dire che solo lui alla fine può votare per tutti gli enti che sono ricompresi in quel livello di governo quindi ripeto livello di governo amministrazione centrale livello di governo amministrazioni periferiche dello Stato livello di governo regionale livello di governo enti territoriali ma questo non vuol dire che le altre amministrazioni non possano comunque partecipare alla conferenza e insomma manifestare appunto la propria posizione al rappresentante rappresentante unico di quel di quel livello di governo conseguenza di questa di quello che abbiamo detto è che l'atto di indizione e convocazione perché stiamo parlando della conferenza contestuale deve essere inviato anche al prefetto nel caso in cui vi siano enti amministrazioni periferiche dello Stato alla presidenza del consiglio dipartimento del coordinamento amministrativo se vi sono amministrazioni centrali dello Stato e naturalmente alle regioni e agli enti locali ed eventualmente altri enti che possono anche essere soggetti formalmente privati tipo i concessionari di pubblici servizi per la gestione di sottoservizi e quant'altro allora qual è la tempistica della conferenza contestuale i lavori della conferenza simultanea convocata dopo la semplificata quindi quella che abbiamo visto la conferenza simultanea che nasce tra virgolette sulle ceneri della conferenza semplificata che abbiamo visto prima si concludono abbiamo detto sempre entro 45 giorni se invece la conferenza simultanea viene indetta subito quindi non c'è una previa fase di conferenza semplificata ma il responsabile del procedimento ha ritenuto particolarmente complessa la tematica trattata e quindi ha deciso di ingre convocare da subito la conferenza in forma contestuale in questo caso torna la distinzione 45-90 giorni per il rilascio del parere che in questo caso decorre non dalla data di ricezione dell'atto di indizione ma dalla data della prima riunione anche in questo caso si considera applicabile il silenzio assenso con le specifiche che abbiamo detto prima quindi il silenzio assenso si applica sempre tranne che nel caso in cui disposizioni euro unitarie come suol dirsi quindi direttive o regolamenti comunitari prevedono l'obbligo di concludere quel procedimento con un parere espresso la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza che viene adottata dall'amministrazione precedente sostituisce tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni o servizi pubblici interessati dopodiché possiamo avere naturalmente due casi possiamo avere il caso dell'approvazione unanime quindi tutti i pareri mettiamo il caso favorevoli in questo caso non ci sono problemi la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza è immediatamente efficace cioè efficace dalla data di ricezione da parte dell'interessato se invece come può accadere il responsabile del procedimento ha chiuso la conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse l'efficacia della determinazione è sospesa quindi è un'efficacia sospesa per dieci giorni perché bisogna dare il tempo agli enti che hanno dato distensi qualificati quindi gli enti portatori di interessi sensibili che abbiano manifestato il proprio dissenso in conferenza i rappresentanti unici in particolare per presentare opposizione l'opposizione amministrativa prevista dagli articoli 14 quadre e quinquies della 241 naturalmente cosa vuol dire cosa vuol dire decidere sulla base delle posizioni prevalenti espresse non è una valutazione di tipo quantitativo quindi non si fa un peso o meglio non si fa una conta dei pareri rilasciati ma si fa come dire si ponderano quindi si pesano i pareri ricevuti come recita una sentenza del consiglio di stato del 2014 si tratta fondamentalmente di valutare qual è l'interesse pubblico prevalente espresso rispettivamente dai rappresentanti unici che hanno dato parere favorevole e dai rappresentanti unici che hanno dato parere parere contrario quindi è chiaro che in questi casi è una valutazione che il responsabile del procedimento deve fare in maniera discrezionale non c'è un canone applicativo univoco ecco dipende sempre dipende sempre caso per caso in ogni modo la ripeto per dieci giorni la la determinazione conclusiva positiva è sospesa per dieci giorni questa della conferenza della via regionale ne abbiamo già parlato anche qua questa è una slide tratta dal sito del dipartimento dove trovate un po' il flusso con la tempistica della conferenza della conferenza semplificata un altro aspetto importante riguarda il raccordo tra la legge 241 del 90 e alcune normative speciali questa è una innovazione importante fatta dal decreto legislativo 127 quello che ha riscritto gli articoli da 14 a 14 quinques perché fino ad allora fino a tutte le innovazioni numerosissime che erano state apportate gli articoli 14 e seguenti della 241 si erano focalizzati unicamente sulla disciplina generale della conferenza di servizi ma le normative speciali continuavano a vivere di vita propria diciamo quindi era sempre difficile coordinare quella che era la disciplina generale della 241 con le varie normative speciali qui si è fatto uno sforzo in più invece nel titolo secondo del 127 si è stabilito proprio il coordinamento tra la disciplina generale che abbiamo appena commentato e alcune e alcune discipline speciali intanto c'è una clausola generale di coordinamento dove si dice opportunamente tutte le volte che la normativa speciale rinvia agli articoli da 14 al 14 quinquies della 241 questi rinvi si intendono riferiti alla nuova disciplina della conferenza quindi è chiaro che anche se il rinvio era fatto al vecchio testo degli articoli da 14 a 14 quinquies della 241 oggi si intendono a questa nuova formulazione questo sembra banale ma è opportuno sempre chiarirlo allora per quanto riguarda invece il coordinamento quindi la prima norma di coordinamento tra la disciplina generale e quella speciale abbiamo il testo unico dell'edilizia quindi le modifiche che nel decreto 127 del 2016 ha portato direttamente in alcuni articoli con l'articolo 2 ha portato direttamente nel testo del DPR 380 del 2001 parliamo in particolare dell'articolo 5 e dell'articolo 20 l'articolo 5 del 380 è quello che riguarda soprattutto il SUE che è l'ufficio gemello diciamo del SUAP lo sportello unico per l'edilizia che come sapete con il decreto 83 del 2012 poi ha assunto funzioni quasi speculari per quanto riguarda l'edilizia soprattutto l'edilizia non produttiva il SUE è l'ente che è l'ufficio che può anche convocare o deve convocare le conferenze di servizi rilascia il provvedimento unico eccetera per gli aspetti non di competenza del SUAP cosa si prevede qui nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire la conferenza di servizi è sempre indetta quando è necessario acquisire più atti di assenso per realizzare l'intervento edilizio quindi anche qua si riconduce a unità la normativa per quanto riguarda come dire la causa di attivazione della conferenza quindi anche in campo edilizio anche se ci troviamo nel campo dell'edilizia non produttiva la conferenza viene indetta ed eventualmente convocata quando dobbiamo acquisire atti di assenso da parte di più amministrazioni un altro aspetto importante è stato modificato la lettera G dell'articolo 5,3 il testo barrato è quello che è stato proprio abrogato dal decreto 127 il SUE acquisisce gli atti di assenso comunque denominati previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati è importante questa come dire questa eliminazione perché prima la norma previgente diceva fermo restando che in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali si procede ai sensi del medesimo codice cioè questo voleva dire che se il dissenso era espresso in conferenza dei servizi o nel procedimento unico ma in questo caso in conferenza dalla sovrintendenza fondamentalmente ci si bloccava invece in questo modo come enfatizza la relazione illustrativa al 127 si allinea la disciplina urbanistica alla nuova disciplina generale e cioè quella in cui l'abbiamo visto prima nella conferenza di servizi non c'è nessun interesse neanche quello preposto alla tutela dei beni culturali del paesaggio che di per sé può bloccare la conclusione del procedimento gli unici che possono bloccare la conclusione del procedimento ma se ne assumono naturalmente tutta la responsabilità sono gli enti che devono rilasciare un procedimento espresso perché così prevede la normativa europea quindi questo è un aspetto importante l'altro articolo che è stato come dicevamo modificato dal decreto 127 del 2016 stiamo parlando del 380 è l'articolo 20 dove si dice l'articolo 20 vi ricordo è l'articolo che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire qui si dice qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso presi da amministrazioni diverse se si procede senza degli articoli 14 e seguenti della legge 241 quindi ancora una volta ancora una volta si riconduce a unità la causa di attivazione della conferenza soltanto quando dobbiamo acquisire più atti di assenso da parte di diverse amministrazioni è stato inoltre abrogato sempre nell'articolo 20 il comma 5 bis che ci diceva se entro il termine di qui al comma 3 quindi nei 30 giorni non sono intervenute intese concerti e quant'altro quindi gli atti di assenso comunque non denominati o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate il responsabile dello sportello unico indice la conferenza dei servizi quindi vedete bene qui il senso di quello che abbiamo detto prima nella normativa previgente spesso e questo è un caso tipico il ricorso alla conferenza era considerato un rimedio una patologia già conclamata del procedimento quindi c'era un problema c'era un intoppo si convocava la conferenza e qui invece si riconduce a unità attraverso l'abrogazione di questo Comba 5bis la come dire l'indizione della conferenza un altro aspetto importante che ci riguarda che ci riguarda direttamente riguarda le modifiche apportate alla normativa sullo sportello unico sempre da parte del nel titolo secondo del 127 in particolare l'articolo 3 prevede robe le modifiche che riguardano la normativa sullo sportello unico abbiamo modifiche non soltanto al DPR 160 del 2010 che è il decreto attuativo quello che ha istituito lo sportello unico online telematico ma anche alla stessa legge delega che è il direto legge 112 del 2008 cosa prevedeva cosa prevedeva in particolare la lettera F dell'articolo 38,3 in caso di di niego ancora una volta vedete lo stesso principio che torna in caso di di niego il privato può chiedere il ricorso alla conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14 15 della 241 in caso di di niego quindi era ancora una volta un rimedio a una patologia del procedimento qua invece viene abrogata la previsione della facoltatività la conferenza viene indetta ed eventualmente convocata quando ancora una volta quando quando dobbiamo acquisire atti di assenso da parte di più amministrazioni e pertanto viene modificato anche il DPR 160 in particolare l'articolo 7 cioè la conferenza è sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diversi enti pubblici prima invece l'obbligatorietà era limitata soltanto al caso in cui non so se qualcuno di voi se lo ricorda la vecchia dicitura dell'articolo 7 del DPR 160 era scritto quando abbiamo endoprocedimenti la cui durata è superiore a 90 giorni allora la conferenza è obbligatoria negli altri casi quando abbiamo endoprocedimenti la cui durata non è superiore ma è pari o inferiore a 90 in questo caso l'indizione era facoltativa era una facoltà del responsabile del procedimento quindi non è più così oggi cosa prevede quindi il nuovo testo dell'articolo dell'articolo 7 intanto quello che leggete nelle lettere A e B è rimasto inalterato quindi abbiamo una doppia fase nell'articolo 7 una fase istruttoria dei primi 30 giorni il SUAP può chiedere all'interessato documentazione integrativa ricordiamoci che decorsi i 30 giorni senza che sia stata chiesti chiaramente documentazione integrativa la documentazione stessa si intende correttamente presentata questo è importante ricordarlo nei successivi 30 giorni quindi decorso il primo termine dei 30 giorni nei successivi 30 l'ufficio deve adottare il provvedimento conclusivo e questa è la fase decisoria poi la lettera C invece della slide è modificata è importante dove si dice se è necessario acquisire intese o atti di assenso comunque denominati da parte di diversi enti quindi come vedete la stessa casistica prevista dalla legge 241 del 90 il responsabile del SUAP indice quindi prima la norma diceva l'articolo 7 recitava può indire oggi dice indice ricordiamoci che quando usiamo il modo indicativo il presente indicativo è una questione proprio di tecnica di drafting normativo indice vuol dire deve indire quindi ho l'obbligo il responsabile del SUAP indice una conferenza dei servizi e c'è un rimando per quanto riguarda le modalità di svolgimento agli articoli da 14 al 14 quinquies della 241 che succede poi scaduto il termine previsto dal DPR il termine di 60 giorni quindi il termine di 30 per la fase di istruttoria e 30 per la fase di decisoria l'ente precedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dei pareri non rilasciati questo è un aspetto importante che vi voglio segnalare ne parleremo meglio l'11 gennaio quando vi ricordo si recupereremo il primo webinar quello che purtroppo ha avuto un po' di problemi tecnici la settimana scorsa quindi recupereremo l'11 gennaio il webinar sul procedimento unico telematico del SUAP e approfondiremo l'aspetto proprio legato al procedimento unico ad ogni modo ricordiamoci fin da ora che quello che vale abbiamo visto nella conferenza di servizi il silenzio al senso vale anche fuori dalla conferenza di servizi nel caso del procedimento unico autorizzatorio del SUAP quindi il responsabile del procedimento il responsabile SUAP deve prescindere dai pareri non rilasciati e deve chiudere il procedimento questo lo prevede chiaramente l'articolo l'articolo 7 del DPR 160 nella lex specialis del SUAP quindi la conferenza quindi come abbiamo visto si attiva soltanto nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7 quindi una volta terminata la fase istruttoria dobbiamo acquisire atti di assenso da parte di più enti pubblici questo è una cosa importante l'articolo 4 del del decreto 127 modifica anche sempre nell'ambito del coordinamento tra normativa generale e norme speciali modifica anche l'articolo 4 del DPR 59 del 2013 che poi tratteremo in un altro webinar dedicato proprio sull'Aua e riguarda la la conferenza appunto gestita eventualmente dall'autorità competente o dal SUAP a seconda dei casi nell'ambito del procedimento appunto di Ava anche in questo caso ancora una volta si prevede l'obbligatorietà dell'indizione della conferenza quando occorre acquisire più atti di assenso da parte di enti pubblici diversi prima invece l'articolo 4 comma 4 prevedeva la stessa cosa speculare che abbiamo visto nell'articolo 7 del 160 cioè c'era una distinzione a seconda che gli endoprocedimenti fossero superiori o meno a 90 giorni nel primo caso era era obbligatorio indire la conferenza nel secondo caso era facoltativo un altro aspetto importante è stata abrogata la norma sempre nell'articolo 4 del decreto 59 che consentiva i soggetti competenti in materia ambientale quindi non le autorità competenti che indicano la conferenza ma proprio i soggetti competenti quelli che devono rilasciare i pareri in conferenza quindi i soggetti competenti in materia ambientale di esprimere il parere positivo anche senza intervenire alla conferenza semplicemente trasmettendo gli atti di assenso cosa vuol dire l'eliminazione di questo comma vuol dire che anche se dai parere favorevole parere positivo lo devi dare in conferenza perché tutti devono essere in grado di poter dire la loro rispetto a quel parere reso in forma in maniera in maniera contestuale in maniera sincrona ecco c'è un motivo per cui la conferenza contestuale si chiama anche sincrona perché tutti devono in maniera sincronica esprimere il proprio parere sullo stesso lo stesso progetto altri aspetti di minore impatto riguardano la conferenza per la via regionale quindi anche qua è stato modificato il sempre con il direto 127 il codice è stato modificato il codice dell'ambiente è previsto appunto un coordinamento tra il procedimento quello che è finalizzato a rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio o la realizzazione di un'attività auto in impianto è quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale si stabilisce in particolare che tutti gli atti di assenso in campo ambientale vengono acquisiti nell'ambito di unica conferenza di servizi decisoria che si svolge in maniera simultanea e qui stiamo parlando naturalmente del parliamo naturalmente specificamente della conferenza di via regionale di cui abbiamo già trattato prima quindi quindi parliamo di via regionale come leggete nella slide non parliamo quello che stiamo leggendo non si applica invece a procedimenti sottoposti a via statale quelli hanno un'altra disciplina un'altra regolamentazione sempre stabilita dal codice dell'ambiente articoli 27 e altri e altri articoli sono abrogate questo è importante è stato modificato l'articolo 5 del codice dell'ambiente che dice sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'indizione facoltativa della conferenza dei servizi e sono modificate le disposizioni di rinvio alla vecchia formulazione degli articoli 14 e seguenti quindi ogni qual volta ci sia una norma speciale anche in campo ambientale che prevede l'indizione facoltativa questa deve intendersi superata quindi non ci sono più conferenze facoltative ma soltanto obbligatorie e infine un altro l'ultimo degli aspetti dei passaggi diciamo di coordinamento tra la normativa generale e quella speciale l'articolo 6 prevede che per quanto riguarda qua non c'è una diretta modifica al codice del paesaggio ma al decreto 42 del 2004 si stabilisce però che quando in conferenza occorre acquisire l'autorizzazione paesaggistica quella di cui all'articolo 146 del codice del paesaggio per il quale è previsto il parere obbligatorio e vincolante del sovrintendente in questo caso il SUAP deve inviare la comunicazione di indizione sia all'amministrazione competente a rilascio dell'autorizzazione sia al sovrintendente quindi la documentazione deve essere inviata a tutti ricordandoci ricordandoci naturalmente che non vi sono non vi sono poteri di veto da parte della sovrintendenza e neanche dell'eventuale soggetto delegato a rilascio dell'autorizzazione paesaggistica quindi non rientrano nei casi in cui il campo del il campo del paesaggio diciamo così l'aspetto la materia del paesaggio non rientra nei campi in cui vi sono delle espresse previsioni del diritto dell'Unione Europea quindi è sicuramente un parere che può essere suscettibile di silenzio assenso infine un aspetto importante un aspetto importante che vi ho detto per quanto riguarda vi ho accennato prima le modifiche l'introduzione di un nuovo modello di conferenza o meglio non un modello la nuova procedura accelerata del modello di conferenza semplificata la conferenza semplificata è stata ulteriormente velocizzata attraverso l'introduzione di un di un articolo del decreto semplificazione 2020 il decreto 76 quello che è stato poi convertito nel settembre nel settembre dello stesso anno quindi il decreto 76 cosa aveva previsto con l'articolo 13 l'introduzione di questa nuova procedura procedura temporanea che doveva terminare al 31 dicembre 2021 se non che il decreto semplificazione di quest'anno il decreto 77 ha previsto all'articolo 51 che la nuova procedura terminerà il 30 giugno 2023 quindi abbiamo ancora due anni e mezzo per poter gestire la conferenza semplificata attraverso queste nuove modalità di cui adesso subito ridicola in sintesi i tratti essenziali una premessa non è come abbiamo detto non è un obbligo è una facoltà del responsabile del procedimento adottare questo modello accelerato di conferenza quindi può essere anche tranquillamente non scelto non optato però è sicuramente una possibilità importante sulla base di quello che subito andremo a dire allora sono due gli aspetti sui quali voglio voglio porre la vostra attenzione allora il primo noi abbiamo detto che la conferenza semplificata come del resto quella contestuale è imperniata sulla come dire sulla bipartizione del termine concesso agli altri enti o agli altri uffici 45 o 90 giorni abbiamo detto 45 giorni se non si tratta di un ente preposto alla tutela di interessi di rango costituzionale 90 invece se si tratta di un ente cosiddetto sensibile quindi preposto alla tutela di interessi sensibili se ci avvaliamo fino al 30 giugno 2023 di questo nuovo modulo accelerato il termine è reso univoco lo stesso quindi abbiamo 60 giorni per tutti ok quindi non dovremo preoccupare anche a livello di gestione della tempistica sarà più semplice quindi saprò che dopo 60 giorni decorrò al netto naturalmente delle eventuali richieste di integrazione documentali saprò che il termine è decorso per tutte le amministrazioni invitate in conferenza non vi sfuggirà il fatto che può essere utile per i responsabili del procedimento avvalersi di questa procedura accelerata soprattutto nei casi in cui io debba invitare in conferenza almeno un ente sensibile un ente preposto alla tutela degli interessi sensibili e quindi in quel caso avrei un'accelerazione invece di 90 dovrei concedergli soltanto 60 giorni ma è chiaro che se ho soltanto enti uffici che non sono preposti alla tutela di questi interessi sensibili e quindi se a loro devo dare soltanto 45 giorni è chiaro che in questo caso paradossalmente la procedura accelerata potrebbe diventare un allungamento potrebbe comportare un allungamento dei termini del procedimento e quindi magari non la troverei conveniente quindi ecco perché è una facoltà e non è un obbligo quindi soprattutto si apprezza l'aspetto acceleratorio quando devo invitare almeno un ente preposto alla tutela degli interessi sensibili ma quella che a parere mio è la vera accelerazione questa è sicuramente un'accelerazione ma quella che dal punto di vista anche quantitativo di giorni risparmiati determina una ulteriore ancora più forte accelerazione l'abbiamo nella seconda novità perché vi ricordate quando abbiamo detto commentando la conferenza semplificata abbiamo detto che ci sono i casi estremi o tutti i pareri favorevoli o tutti i pareri oppure uno almeno uno o più pareri negativi cosiddetti tombali quindi non non risolvibili in quel caso quelli sono i due lati estremi le due fatti specie estreme concluderò la conferenza di servizio semplificata con una determinazione rispettivamente a contenuto positivo o a contenuto negativo e abbiamo anche detto che poi dopo nella conferenza nella determinazione che vale soltanto come comunicazione di motivi o stativi dovrò invitare il privato a controdedurre vi ricordate tutto quello che abbiamo detto prima e che soltanto dopo l'esame delle controdeduzioni eventualmente arrivate sulla base del parere ulteriormente reso dall'ente sulla base delle controdeduzioni potrò e dovrò a quel punto nella nuova determinazione negativa scrivere finalmente nella seconda determinazione negativa scrivere avverso il presente provvedimento è possibile fare ricorso eccetera eccetera ma questo riguarda i casi in cui ho un parere non risolvibile quindi un parere cosiddetto tombale a discrezione dei responsabili del procedimento ma abbiamo detto che vi sono un'ampia zona grigia in cui ho pareri favorevoli che sembrano apporre prescrizioni sostanziali al progetto oppure pareri negativi però collaborativi che dettano condizioni altrettanto sostanziali affinché quel parere da negativo possa diventare favorevole e abbiamo detto che in quei casi il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi contestuale nella data precedentemente stabilita quindi sarà una conferenza eventualmente da tenersi in forma fisica presso la sede da me indicata e nei successivi 45 giorni la conferenza dovrà concludersi l'innovazione quindi tutto questo ampio preludio per dirvi che cosa che con la conferenza invece se ci avvaliamo entro il 30 giugno del 2013 della conferenza del modulo accelerato della conferenza semplificata io nel momento come responsabile del procedimento nel momento in cui acquisisco questi pareri intermedi chiamiamoli così invirò subito convocherò subito una riunione telematica con i rappresentanti unici quindi non una riunione fisica ma una riunione telematica nella data che avevo precedentemente stabilito nell'avviso di indizione e in questa riunione telematica quindi si farà poi un verbale in cui si prende atto delle rispettive posizioni e si procede senza ritardo a redigere la determinazione motivata conclusiva quindi qua veramente c'è un'accelerazione importante perché non c'è un'ulteriore tempistica di 45 giorni durante la quale è possibile tenere una o più sedute fisiche ma fosse anche soltanto telematiche della conferenza contestuale qua si fa un'unica riunione telematica al termine della quale si stabiliscono le posizioni si prende atto delle quindi dei pareri espressi dei vari rappresentanti unici si verifica il responsabile del procedimento verifica se si possa andare all'unanimità o se si debba decidere sulla base delle posizioni prevalenti e senza ritardo quindi il giorno dopo due giorni dopo eccetera si procede a redigere la determinazione motivata conclusiva quindi come vedete un'accelerazione importante un aspetto volevo segnalarvi che non ho detto prima sempre per per brevità quando io faccio in esito alla conferenza contestuale che sia quella nella procedura ordinaria o quella della procedura accelerata quando termino ahimè la procedura con una determinazione negativa scriverò subito metterò subito la famosa clausola avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale eccetera eccetera perché nella conferenza contestuale questo lo faccio nella conferenza semplificata no per sempre per il motivo che abbiamo detto prima perché nella conferenza semplificata finché non faccio la prima determinazione negativa il privato non è stato messo in condizione di controdedurre di far sentire la sua e quindi di avvalorare di realizzare il principio del giusto procedimento qua invece nella conferenza contestuale che sia in forma fisica o telematica in forma ordinaria o accelerata comunque trovandoci tutti intorno a un tavolo o trovandoci tutti comunque a discutere in maniera sinergica in maniera soprattutto contestuale il privato è sempre messo in condizioni di dire la sua e quindi di esprimere eventualmente attraverso anche il suo tecnico abilitato di esprimere le proprie motivate osservazioni che dovranno essere recebite nel verbale finale ecco perché la determinazione che viene redatta in esito al verbale finale della conferenza contestuale conterrà subito la clausola verso il presente provvedimento eccetera eccetera perché già è stato valorato il principio del giusto procedimento perché non ho bisogno di fare una comunicazione di motivi ostativi perché già ho sentito il preso atto delle osservazioni del privato allora io mi fermo qui per quanto riguarda questa breve disamina dell'istituto della conferenza dei servizi mi scuso per la velocità però purtroppo gli argomenti sono tanti e il tempo è poco leggo al volo le domande e ne parliamo allora vediamo un po' se la documentazione è caricata sul portale regionale gli enti coinvolti nella conferenza che possono accedere al portale devono scaricare la documentazione da lì o devono aspettare la trasmissione dal SUAP ma allora chiarisco che non come dire non non conosco esattamente le modalità di funzionamento del portale regionale però se lei ha scritto se la documentazione è caricata sul portale immagino che se è caricata immagino che gli enti possano già accedere forse in un'area riservata adesso non so bene come funziona il portale però se la documentazione viene caricata informaticamente sul portale do per scontato che sia possibile accedervi se invece lei per caricata intende viene data notizia ma non fisicamente caricata sul portale è chiaro che deve essere deve essere trasmessa quindi dal SUAP quando io carico qualcosa in piattaforma quello vale già come atto di trasmissione anche nella procedura che vi ho detto prima quella prevista dell'articolo 14 bis se per le dimensioni io non riesco a trasmettere la pratica ma la carico sul mio server e do semplicemente agli enti invitati in conferenza l'indirizzo della pagina del mio server e le credenziali per accedere quello va bene lo stesso non c'è bisogno di trasmettere necessariamente il progetto dal punto di vista informatico un'altra domanda allora se l'ente che deve esprimere il parere non lo esprime nei termini previsti si forma il silenzio assenza ma questo silenzio assenza è valido in caso di mancata espressione del parere da parte di enti come i vigili del fuoco superindendenza ARPA commissione paesaggistica il silenzio assenza è valido se tutta la documentazione prodotta per l'espressione del parere da parte dell'ente adito è completa e l'ente non si è espresso nei termini laddove però l'ente non si è espresso non abbia fatto prevenire la propria struttura nei termini non è possibile per il swap conoscere se il silenzio assenza si sia validamente formato su progetti complessi soprattutto in zone vincolate è necessaria la certezza allora no allora il discorso è questo è molto più molto più semplice diciamo cioè i termini i termini i termini li conosciamo noi perché siamo noi che gestiamo che gestiamo il procedimento ecco perché un aspetto fondamentale un aspetto fondamentale che eventuali i passaggi più critici sono quelli iniziali come in tutti i procedimenti rispettare i cinque giorni per l'istruttoria e questo purtroppo ahimè non sempre è possibile ma soprattutto è importante quando trasmettiamo l'atto di indizione della conferenza ai servizi comunicare chiaramente che i privati e gli enti invitati non soltanto hanno 15 giorni sodari e consecutivi per far avere eventuali integrazioni documentali ma soprattutto quelle integrazioni documentali devono arrivare a me come responsabile del procedimento non devono arrivare direttamente dall'ente invitato all'interessato al privato richiedente altrimenti tutto il discorso che abbiamo fatto finora salta completamente io devo essere io a sapere se vi sono integrazioni da fare ma non perché il legislatore questo non lo ha previsto perché vuole stabilire una primazia o quello che sia da parte dell'ufficio precedente del SUAP o di chi sia l'ente ma perché in questo modo il responsabile del procedimento è in grado di gestire in maniera efficace anche tutta la tempistica del procedimento quindi io so esattamente al netto delle integrazioni documentali quindi anche considerando sospeso quel termine di 15 giorni più eventualmente il termine di noi possiamo dare poi gli enti hanno 15 giorni per rappresentare esigenze di integrazione poi sulla base di quelli io darò un termine di 30 giorni durante i quali naturalmente la pratica è sospesa quindi i termini della conferenza sono sospesi il privato entro i 30 giorni può chiedere motivando naturalmente data la complessità della documentazione da reperire un supplemento di tempo per far pervenire la propria documentazione se questa però non dovesse avvenire questo lo dico sempre è buona norma non lasciare aperti i procedimenti sine die ma archiviare la conferenza quindi non parlare di non parlerei di conferenza di servizi che si chiude con esito negativo semplicemente la conferenza viene archiviata il procedimento viene archiviato per mancanza delle integrazioni documentali nei termini previsti ad ogni modo tutto quello che stiamo dicendo presuppone che il responsabile del procedimento abbia la gestione del governo del procedimento stesso e questo lo può fare soltanto se tutti i flussi informativi arrivano a lui se l'end il singolo ente scrive direttamente all'interessato è chiaro che tutto questo non può funzionare quindi io se invece il procedimento viene gestito in maniera corretta in maniera efficace io come responsabile del procedimento so sempre quando decorrono i termini per i vigili del fuoco eventualmente saranno 90 giorni perché sono un ufficio preposto o altri enti preposti e vincoli ma la domanda che ci dobbiamo fare poi è sempre la stessa sempre una e una sola cioè la necessità di un parere espresso deriva chiaramente da una norma di carattere euro unitario o meno nel primo caso sicuramente se sì allora dobbiamo fermarci quindi come responsabile del procedimento dobbiamo dire non possiamo non possiamo desumere il silenzio assenso ma scriveremo anche per cautelarci naturalmente scriveremo guarda che mi stai impedendo di chiudere la conferenza dei servizi ci sono ci sono severe e concrete responsabilità e profili possibili anche di risarcimento danno da ritardo che poi andrebbero andrebbero imputate sempre in sede giudiziaria all'amministrazione che ha causato ritardo e non naturalmente al responsabile del procedimento però è sempre buona norma che è responsabile del procedimento come dire si cauteli indicando io ritengo non soltanto quindi scrivendo all'ente che non risponde alle termini e mettendo sempre in conoscenza l'interessato il fatto che appunto la conferenza non si chiude ma non perché io non la voglio chiudere ma perché c'è un ente che mi impedisce di proseguire ancora allora vediamo un attimo allora se ci troviamo nel caso di dover convocare la conferenza contestuale per emissioni ordinarie ok qua parliamo la collega parla di la procedura ordinaria per le emissioni in atmosfera quindi l'articolo 269 del codice dell'ambiente ma l'ente che ha dato il parere di dissenso con prescrizioni che richiedono modifiche non presenze alla conferenza convocata proprio per risolvere per risolvere senza un carteggio infinito come si procede dato che la conferenza contestuale non è stata risolutiva allora qua torno al discorso di qui sopra poi io lo dico e lo confermo sempre c'è sempre una teoria e c'è una pratica io vi devo dire quella che è la teoria poi quella che è l'applicazione pratica di quello che stiamo dicendo oggi ognuno come dire in scienza e coscienza la applica all'interno del proprio ente delle proprie conferenze di servizi qua la collega ha fatto un esempio giustamente di conferenza contestuale allora intanto abbiamo detto che nella conferenza contestuale votano i rappresentanti unici quindi anche se l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione ordinaria le emissioni in atmosfera non presenzia ma per me l'importante è che vi sia il rappresentante unico di quel livello di governo dopodiché se in questo caso l'ente che ha dato il parere di dissenso con prescrizioni non presenzi alla conferenza ricordo quello che abbiamo messo in una slide precedente cioè ci sono alcuni crismi di legittimità dei pareri negativi dei pareri negativi non validi dei pareri negativi collaborativi eccetera uno di questi crismi che in conferenza contestuale il parere negativo è espresso in conferenza se poi tu non partecipi non è proprio possibile non soltanto non soltanto pretendere che la conferenza si chiuda con esito negativo ma non è possibile neanche fare opposizione vi ricordo che l'articolo 14 quinquies che potete andare a leggere nella 241 prevede una cosa importante cioè il procedimento di opposizione amministrativa può essere posto in essere soltanto da quegli enti anche come nel caso della collega preposti alla tutela di interessi sensibili quindi anche il 269 sicuramente che abbiano partecipato in conferenza non partecipare alla conferenza è assolutamente un problema molto 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 serio allora i 5 giorni per l'indizione della conferenza semplificata sono compresi nei 45 o si deve intendere come durata massima del procedimento 5 più 45 allora no allora i 5 giorni sono 5 giorni lavorativi quindi con salvezza come abbiamo detto prima dei sabati e delle domeniche e di eventuali giorni festivi e sono i 5 giorni che abbiamo per fare l'istruttoria il cosiddetto screening formale della documentazione quindi valutiamo che la documentazione sia formalmente completa se è così emaniamo tramite portale tramite pecca a seconda di quello che sia tramite posta ordinaria come abbiamo visto con i limiti della posta ordinaria istituzionale come dire trasmettiamo l'atto di indizione con tutta la documentazione necessaria dopodiché dalla ricezione di questo di questo atto di indizione scatta il termine di 45 giorni per gli enti preposti alla tutela di interessi non di rango costituzionale altrimenti sono 90 naturalmente c'è la possibilità che questi 45 giorni vengano sospesi se nei 15 giorni successivi uno o più enti chiede integrazioni documentali quindi è chiaro che il termine viene sospeso da quando ricevo la richiesta fino a quando non mi viene presentata la richiesta di integrazione allora il procedimento di AWA nella nostra regione prevede un iter molto complesso le assicuro in tutte le regioni purtroppo che passa tra regione SUAP e città metropolitana nel caso del mio comune non abbiamo la nostra modulistica ma si utilizza quella di sistema Piemonte occorrerà rivedere bene l'iter procedimentale in questo caso il SUAP fa da tramite e il responsabile del procedimento è esterno allora le anticipo che ci sarà un webinar dedicato esclusivamente all'AWA dove avrò cura poi naturalmente di state tranquilli di documentarmi in maniera assolutamente esauriente spero almeno anche sulla vostra normativa regionale quello che però voglio sicuramente mi sento di dire fin da subito è che il SUAP non è che fa proprio da tramite perché l'articolo 4 del decreto 59 è scritto non benissimo diciamo così non è sempre chiarissimo però una cosa è chiara quando il procedimento è soltanto di carattere ambientale quando non si esce dal perimetro quando non si esce dal perimetro dei 7 endoprocedimenti previsti dall'articolo 3 del decreto 59 l'ente procedente per la conferenza dei servizi è l'autorità competente quindi in questo caso sarà da voi l'autorità competente immagino che sia la città metropolitana o provincia ma altrimenti se vi sono altri atti di assenso da acquisire oltre a quelli ambientali quali il parere del sovrintendente il permesso di costruire il parere preventivo sul progetto quello previsto dal DPR 151 del 2011 sulla prevenzione di incendi in quel caso quindi parliamo di enti esterni all'aspetto ambientale in quel caso la conferenza deve essere indetta ed eventualmente convocata dal SUAP che quindi fungerà da ufficio precedente all'interno della conferenza indetta ed eventualmente convocata dal SUAP l'autorità competente dovrà curare come dire l'adozione del provvedimento di AWA che poi verrà sempre in conferenza trasmessa al SUAP però ripeto di questo poi avremo ampio modo di parlarne in un prossimo webinar allora dunque se all'interno della conferenza di servizio accelerata il parere negativo ma non tombale quindi superabile variando il progetto viene dato dalla commissione locale per il paesaggio come occorre procedere nella maniera corretta allora qua se il parere è superabile allora il problema il problema è quello della mi dico la verità è sempre quella di come dire di gestire pareri dati all'interno di una conferenza di servizi non non da un organo monocratico ma da una commissione è chiaro che in questi casi se vi è già stato un parere se vi è già stato un parere negativo collaborativo mettiamola così da parte della commissione locale per il paesaggio sicuramente trovandoci in conferenza di servizio accelerata la maniera corretta è quella di semplicemente applicare applicare il modulo accelerato e quindi indire nella data già prevista dall'atto o meglio scusate convocare nella data già prevista dall'atto di indizione la conferenza in forma contestuale telematica perché è prevista nella maniera esclusivamente telematica e verificare in quella sede se sulla base delle prescrizioni date dalla commissione locale per il paesaggio se l'interessato si è conformato a quelle prescrizioni o meno perché è importante perché è importante che siano tutti presenti ecco questo è un caso a cui tengo a cui tengo molto su su cui è importante porre l'attenzione perché è importante che tutti partecipano perché le prescrizioni apportate in questo caso dalle le chieste dalla commissione locale per il paesaggio ma lei può immaginare qualunque altro ente potrebbero determinare delle modifiche progettuali tali da inficiare il parere favorevole già espresso da un altro ente invitato in conferenza ecco perché poi su quelle modifiche occorrerà trovare una quadra attraverso in questo caso l'unica conferenza telematica indetta dalla convocata dalla responsabile del procedimento perché le eventuali modifiche progettuali potrebbero non andare potrebbero in questo caso risolvere le obiezioni poste dalla commissione locale per il paesaggio ma potrebbero non andare bene per altri enti ecco perché tutti devono entrare devono partecipare alla conferenza non possono limitarsi a dare a trasmettere il loro parere a mezzo mail a mezzo pezzo sul portale e quant'altro altrimenti spiace dirlo ma quel parere deve essere considerato come un parere favorevole e incondizionato allora nel caso di swap gestito in forma associata con la camera di commercio che svolge il ruolo di ente capofila quindi qua se ho capito bene in delega credo non lo so questo non è importante quindi in questo caso che svolge il ruolo di ente capofila e amministrazione precedente è possibile considerare acquisito il silenzio assenso del comune con riferimento all'endoprocedimento di rilascio del permesso di costruire esenze dell'articolo 14 visto 14 ter qual è il termine perentorio da assegnare al comune per l'acquisizione del silenzio assenso tenuto conto anche dei disposti dell'articolo 20 del 380 45 a 90 per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione dovremmo rilasciare un'autorizzazione la cui efficacia è subordinata al versamento degli oneri ok nel caso in cui considerassimo acquisito l'assenso del comune che non si pronuncia nei termini il comune potrebbe avvalersi dell'articolo 14 quinquies la difficoltà è quella di considerare acquisito l'assenso su interesse il territorio che non è oggetto di valutazione di altro ente come invece avviene nel caso del paesaggio e di rilasciare domanda bella lunga è di rilasciare un atto di cui non leggo più vabbè allora comunque provo a rispondere allora in questo caso per quanto riguarda il primo quesito la risposta è sì ora al di là della fattispecie che l'ente capofila sia la camera di commercio o come più tipicamente accade un comune capofila quando c'è una gestione in forma associata del suo anche se io devo acquisire il parere di un altro comune della stessa gestione associata ma anche del mio comune si tratta sempre è come se fossero sempre enti terzi quindi non c'è nessuna differenza tra un altro ufficio comunale e in questo caso sarà l'ufficio l'ufficio tecnico sarà il suo e quello che sia e un ente terzo ripeto l'ufficio comunale è sempre a tutti gli effetti un ente terzo per il per il per il per il suo quale quale che sia il suo quindi sicuramente sicuramente sì il permesso di costruire anche se è una materia estremamente come dire delicata ma non rientra a stretto regime in quelle per cui è prevista la necessità di un provvedimento espresso ai sensi del di un di un regolamento di una direttiva comunitaria quindi la risposta è sì nei corsi termini si applica il silenzio assenza e si considera rilasciato senza condizioni il permesso il permesso di costruire poi su questo faremo un'altra faremo un altro webinar ci sono dei casi non ne possiamo parlare adesso anche perché sta scadendo il termine ci sono dei casi in cui io posso comunque questo lo prevede il nuovo il nuovo il nuovo comma 8 bis dell'articolo 2 della 241 introdotto nel 2020 posso salvare tra virgolette posso considerare validamente resi anche pareri tardivi la regola oggi è che i pareri tardivi anche in conferenza dei servizi sia semplificata che contestuale sono inefficaci cioè non hanno effetto ma ci sono dei casi lo vedremo in un prossimo webinar in cui invece posso salvarli questi pareri negativi naturalmente questo richiede che il parere tardivo arrivi nella come dire nell'imminenza cioè subito dopo la scadenza dei termini non dopo un mese o sei mesi questo è chiaro quindi il termine che dovremmo dare al nostro ufficio tecnico è sicuramente quello previsto dall'articolo 20 del 380 per gli oneri di urbanizzazione sicuramente io sì credo che la soluzione prospettata potrebbe essere quella quindi quella di rilasciare un'autorizzazione la cui efficacia è subordinata dal versamento degli oneri per cui ci mancherebbe altro sono previsti assolutamente dal DPR 380 sono un requisito indispensabile ci mancherebbe altro allora nel caso in cui considerassimo acquisito l'assenso del comune che non si pronuncia nei termini il comune potrebbe avvalersi dell'articolo 14 quinquies a stretto regime no perché l'articolo 14 quinquies riguarda gli enti preposti alla tutela degli interessi sensibili e abbiamo detto che questo non è in questo si discute ma soprattutto il problema è che non è tanto se si è preposti o meno alla tutela di un interesse sensibile il problema è l'articolo 14 quinquies non la possono porre essere quei soggetti che hanno validamente votato contro in conferenza di servizi e non mi sembra questo il caso l'articolo 14 octies forse lei si riferisce all'articolo 21 octies quello che riguarda l'annullabilità degli atti o al nuovo non lo so non riesco non riesco a interpretare ad ogni modo questo è sicuramente quello che posso dire per ora andiamo avanti forse abbiamo il tempo due minuti per rispondere all'ultima domanda vediamo un poco nell'ambito del SUAP ai sensi dell'articolo 6 lettera C della 241 chi può indire alla conferenza dei servizi responsabile del SUAP o il responsabile del procedimento ecco la ringrazio per la domanda perché questo è uno degli argomenti che avrei trattato lo scorso 14 dicembre purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici ma questo argomento lo replicheremo l'11 gennaio quello che le posso anticipare è che l'articolo 6 della 241 è chiaro il responsabile del procedimento si presuppone quello che è indicato sul sito nella sezione amministrazione trasparente quindi se questo non è o è il responsabile del SUAP o se questo ha fatto degli ordini di servizi i suoi funzionari singoli responsabili del procedimento quindi se questo è se nell'ordine di servizio che può essere un ordine di servizio semplice un ordine di servizio con conferimento di posizione organizzativa questo poi dipende naturalmente dalle realtà dei singolienti sicuramente può essere prevista anche la competenza a indire ed eventualmente convocare la conferenza dei servizi questo assolutamente sì io mi fermerei qua vorrei soltanto dire che poche sono arrivate parecchie domande e naturalmente non ho avuto tempo in questa ultima mezz'ora di rispondere a tutte poi nei prossimi giorni darò la risposta per iscritto a tutte le domande grazie grazie mille infatti a quelle a cui ho risposto sia alle altre tutte le domande sono state raccolte e poi nei prossimi giorni avrete a disposizione sia le slide che la registrazione e le domande è sempre nella pagina nella quale vi siete iscritti allora a questo punto non mi resta che ringraziare Riccardo e ringraziare tutti voi per aver partecipato ci vediamo con il nuovo anno dunque colgo l'occasione per farvi i miei più sentiti auguri di Buon Natale e ci rivediamo l'11 gennaio buon proseguimento a tutti grazie a tutti grazie a tutti